Si bada alla sostanza e non ai dettagli. All'Ambrosia Biceglie interessa la prima più dei secondi perché la sfida di domani pomeriggio contro Valmontone serve per ricavare ulteriori segnali di progresso dopo la vittoria in casa su Senigallia. Per questo passa in secondo piano il fatto che la formazione razziale sia l'ultima forza del girone, con appena una vittoria in sette giornate, tanto più ottenuta dopo due tempi supplementari contro il Custaranto. Perché dal suo canto l'Ambrosia Biceglie può vantare una classifica appena appena migliore. Il secondo successo è arrivato domenica dopo una serie di quattro sconfitte e quindi deve badare alla sostanza di questa partita che qualche risposta dovrà dare al tecnico Alessandro Fantozzi. Il cui lavoro vero sulla squadra è cominciato proprio dopo il successo su Senigallia e quella contro Valmontone è una sorta di primo esame. Anche la formazione razziale come l'Ambrosia ha scelto di cambiare la guida tecnica affidandosi ad Agostino Origlio che Fantozzi conosce bene avendolo avuto come assistente del coach per Di Chizzi quando vestiva la maglia del capo d'Orlando. Conosciuti sono anche alcuni elementi del Valmontone. De Fabrizis, Nozzolino e Di Giacomo sono giocatori d'esperienza contro i quali l'Ambrosia dovrà evitare gli errori di approccio delle ultime gare, compresa quella con Senigallia, e al tempo stesso confermare la buona tenuta difensiva emersa dopo l'avvio difficoltoso di domenica scorsa. Compito che almeno sulla carta sembra facilitato dalla bassa percentuale realizzativa dei laziali, uno dei dettagli che l'Ambrosia Biceglie però non vuole prendere in considerazione. Grazie a tutti.